musica 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 no 5 i non faccio ma tiana lei ci ha posto per sempre ma chiamavo pollo ma i figa adesso io devo andare a guardare fino a mattina maia 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 da maia da prezda prezda non è un numero che cosa vieni a fare che la canzone la sentivo 800 volte al giorno è una questione di te togli e in più questa è un'altra richiesta è il silus della del sbante anzi ora potremmo fare una roba del genere sarebbe bella da fare allora vieni italiano lì in azienda allora tanti che ti dici vieni a fare le tutorial qua, vieni a guardare insomma e...fiamo i progetti e tutto dopo sarebbe bello che magari ti monti le tutorial piccole è un silos che è lì dei semi esatto c'è una roba piccola in maniera che dopo quando ti metti la roba grossa ti riesci a camuffarlo ecco e fai il progetto insomma a passi e fai il progetto e tutto dopo viene benissimo le tettole e il silos e dopo c'è tutta roba piccola e lo dice scuota ma che chi cioè il mio è giusto e adesso ti dice beh adesso fa benissimo lavoro fatto bene e dopo sistema tutto ecco senza che sia l'italo e benissimo ah che fa l'italo e benissimo beh che trade si chiamano? si chiamano arriva l'italo e dice oh e tu hai visto che ho fatto un progetto fatto bene ecco alla fine l'ha resisterato tutto benissimo ecco era un po' che benissimo e italo insieme ecco ti hai detto marco ti piace la trama del mio film? si si ma io parai in marea che lui incuo qua sabbia mi mancavo così tanto marco di la verità eh e quando non ci sarò più cosa farai? verrai a piangere da me? e io ti dico eh ma io ho vinto l'operaio cap si vieni vengo a casa da me ma ah ma lì c'è meno agri 0-3 qua sostituirà eeeh come è nico g che sostituirà sostituirà nico eeeh 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 io avrei visto una scenetta da farti farmi marco ahia ma c'è panicolata ahè ma che cazzo marco voi non si potrebbe fare anche la scenetta del treno che leggerà pronto il trattore ecco sempre in mezzo lui sta sempre io sempre io in mezzo eeeh il treno io la faccio il personaggio perchè io sono sbagliati agri ah va no marco no marco tu hai un problema di tu hai un problema di eeeh sì marco c'è un piccolo problema no no non so mio se marco ahahah eeeh eeeh il problema è e sei un po' ribaltato ah eeeh se vuoi il biogasso potrei passare se ti sei nato sopra non sei niente in più non fa mai male vabbè eeeh vuoi il biogasso le chiave di casa devi scassinare il primo è il bello esatto il primo è il bello perchè non è casa mia ahahah ahahah oh sento te da porti casa una vita parcheggi i mari fuori come mai parcheggi i mari fuori perchè si è rotto il cancello qui dove 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 si è aperto solo tante spanne a passare e detti di fuori il grimandello fai entrare cazzo tua ma quello puoi e si perchè non ho le chiave non vuoi fare il titolare quando hai un grimandello non ho le chiave non ho le sante te li paghi anche a 700 euro qua eh eh beh c'è pensa originali quanti cazzo le scheglie ma quanto quanto costa un grimandello qua da tu? e ora 20 euro un orologio con i diamanti della Giacova della Giapponia? diamanti veri Giacova Marco basta che togli l'hidropu la pulivaco la putana eh vai l'ho fatto apposto di un sempletto avzzetto fuori maронava pianta sua rotonda ehhh dritto Matti ti avevo accennato il trattore ha scomparso no io la cosa siamo alla centesima puntata puntata 0 98 no ancora a finire e che ancora entrare tutto il team nella serie esatto perchè questa serie sarà eterna no a finire che la gente si è stancato e dice basta non possiamo più stavamo fatto con Marco se ormai siamo dovuto finire anche tutte le idee Marco morca di una puttata mai finire ma io penso che sia il più un cheat oggi tra poco tra poco verrà messo qualcosa perchè nuova roba eh ho pensato amici a parte che siamo tutti uomini vabbè faremo una gangbang e eh no io devo contentarci in qualche maniera non basta una gannatura io non faccio la donna a parte che ormai posso diventare una gannatura io non faccio mai l'unica che volevo pagare la gannatura Marco tempo eh ho pensato il tempo cresce di semence dai canner oh sei c'è un cazzo duro se dici così è un problema però c'è il fintore dei fiammi eh una cosa un poco strana sei pronto nico? ma posso fare la mia suoneria? si ah ah che suoneria è strana che suoneria è strana si ma adesso perché invece tu vuoi farla con quella di oh si ah ah tardi le gambe come una paga uva troppo tardi? sei un miniatrice da che altra? eh l'ho caputata infatti ma poi è bello prenderti a porchi quando sbretti come una gallina rimane 12.000 per terra ah fancola da te da te da te cazzo devo mettere il ruote file ah che ne so se lo metterò toglie il coro e con questo abbiamo concluso grazie dell'attenzione e arrivederci bella raga bella